Buonasera bella gente ci ritroviamo su No Man's Sky portare avanti la spedizione restano tre settimane come non voglio rushare come l'ultima volta preferisco fare le cose con calma ma andare un po' avanti perché altrimenti mi riduco all'ultima settimana che devo fare tutto e non ce la faccio insomma tanta roba da fare iniziamo col col mio piccolo intanto ero venuto qua per comprare una stranata decente ma non ne vedo prende quella che è una classe A me la prendo my friend and 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 e e e e Merda, sono rientruto con sbaglio Il problema è che ha degli armamenti di merda Se scudiamo questo, il resto va bene Merda 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.